Regione e sindacati pronti ad affrontare in un tavolo istituzionale permanente i problemi del futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento della Sevel di Atessa e del settore dell'automotive. La decisione è emersa al termine di un incontro che si è svolto oggi a Pescara. Gli assessori al lavoro Pietro Quaresimale e allo sviluppo economico Daniele Damario hanno garantito il massimo impegno e dopo una interlocuzione avuta con i ministri Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti, ora si confronteranno con i vertici aziendali di Stellantis. Siamo disponibili, tant'è che abbiamo subito convocato un tavolo regionale per capire la situazione della Sevel e non solo, di tutte le aziende che hanno delle difficoltà. Tra l'altro io già a settembre ho preparato un dossier che ho consegnato al ministro Giorgetti, tra cui la posizione della Sevel. Vogliamo supportare i lavoratori e cercare che questa grossa azienda rimanga in Abruzzo e continui ad investire, quindi la regione farà sicuramente la sua parte. Nel corso della riunione Giuseppe Dortona della RSU FIOM CGL di Sevel ha detto che urgono soluzioni per far sì che l'automotive rimanga uno dei settori trainanti dell'economia abruzzese e che la Sevel mantenga gli standard di produzione che ne hanno fatto in questi anni un punto di riferimento a livello nazionale. Dortona ha evidenziato che un tavolo istituzionale permanente garantirebbe un confronto sulle strategie da mettere in atto. Si sta vivendo un prerito molto ma molto preoccupante perché se come tutti sanno con la cassa integrazione dovuta alla crisi mondiale dei semiconduttori però c'è un problema ancora che va oltre perché la riduzione dei 500 ragazzi che sono stati mandati a casa e noi speriamo che gli altri rimangono però le notizie che ci arrivano non sono riassicuranti per quanto riguarda il lavoro. Il futuro della Val di Sangro noi chiediamo che sia fatto un tavolo anche con la presenza di Stellandis permanente per dire che la Val di Sangro non può essere disminuita dall'oggi al domani perché non vanno azzerate le professionalità e la grande qualità che c'è in quella fabbrica e il risultato che ha portato oggi quella fabbrica su tutto il territorio.